Sarebbero almeno 15 i magistrati calabresi indagati dalla procura di Salerno per vari reati, tra cui alcuni anche gravi come favoreggiamento mafioso, corruzione in atti giudiziari e corruzione. I PM salernitani, competenti per il distretto di Catanzaro, stanno indagando dall'estate scorsa con carte trasmesse dalla procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri. A finire sotto inchiesta magistrati requirenti e giudicanti, pure con ruoli apicali degli uffici di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Ci sarebbero intercettazioni ambientali e telefoniche e le dichiarazioni di un maresciallo dei Carabinieri, Carmine Greco, arrestato il 7 di luglio scorso per concorso in associazione mafiosa da Nicola Gratteri, dietro alle indagini aperte dalla procura di Salerno. Il maresciallo greco in servizio nel reparto forestale è stato in passato consulente anche del Ministero dell'Ambiente e ha mantenuto rapporti in ragione della ruola esercitato con vari esponenti politici calabresi. Intanto il procuratore di Cosenza, Mario Spagnuolo, non ha inteso di lasciare dichiarazioni sulla notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati della procura di Salerno. Nessuna dichiarazione al momento giunge neppure da parte della procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla. Al centro dell'inchiesta episodi di favoreggiamento a beneficio di indagati e rivelazione di segreto d'ufficio in relazione a operazioni di polizia, ma anche la manipolazione di atti relativi ad indagini. Al momento non risultano comunque provvedimenti a carico dei magistrati coinvolti.